Da cronache e ribelli. Giovani innamorati, gli schiavi Helen e William, con coraggio e astuzia, si guadagnarono la libertà e il diritto alla felicità. Quella dei Coniggy Craft fu senza dubbio la fuga più riuscita e pubblicizzata di due schiavi negli Stati Uniti. Siamo a metà dell'Ottocento, quando Helen e William, dopo essere riusciti a fuggire dalla Georgia, raggiungono Filadelfia, guadagnandosi di fatto la libertà. A differenza di molti altri che, come loro avevano tentato, è purtroppo spesso fallito l'evasione. I due giovani sposi non si dileguarono per paludi melmose, non scapparono vestiti di stracci, con i mastini del proprio padrone alle spalle, non attraversarono la famigerata linea Mason-Dixon nel buio della notte. Helen e William raggiunsero in soli quattro giorni Filadelfia viaggiando in prima classe su un treno a vapore, cenando col capitano di bordo e soggiornando lungo il tragitto nei migliori alberghi che la civiltà potesse offrire. Ma per spiegare come tutto ciò fu possibile, bisogna fare qualche passo indietro nella storia. Scusate, i miei occhi anche con gli occhiali non funzionano, devo andare all'oculista. William aveva 16 anni quando incontrò Helen. Lui, separato dalla famiglia, è venduto per ripianare i debiti di gioco del suo primo padrone, inizialmente stentò a credere che quella giovane fosse nelle sue stesse condizioni. Helen, infatti, era per tre quarti di sangue bianca e in molti nella casa del signor Collins la scambiavano per una della famiglia. Figlia legittima di Maria, una schiava mulata, è del suo padrone. Il maggior Smith era stata regalata alla sorellastra come dono di nozze. Helen e William si innamorarono e si sposarono. Decisero però di non avere figli finché non fossero stati liberi. Presto elaborarono un piano tanto asardato quanto geniale per guadagnarsi l'emancipazione. Helen si travestì da uomo e finse di essere un giovane aristocratico del sud in viaggio col proprio schiavo di fiducia. Grazie ad alcuni soldi messi segretamente da parte da William, entrambi si comprarono gli abiti adatti alla fuga e si imbarcarono verso il nord. Durante il viaggio Helen finse di essere malata per avere meno contatti possibili con gli altri viaggiatori e si legò il braccio destro, cosicché se le fosse stato chiesto di firmare dei documenti avrebbe potuto nascondere il proprio analfabetismo. Il colore chiaro della sua pelle fece il resto. Una volta conquistata la libertà, i conegi Kraft divennero un simbolo per tutto il movimento abolizionista che si spronò a raccontare la propria storia. Ma appena due anni dopo la loro fuga nel 1850 erano nuovamente in pericolo. Grazie all'approvazione da parte del congresso del Fugitive Slave Act Collins poté inviare dei cacciatori di schiavi e a dargli la caccia. Così Williams ed Helen vennero aiutati a emigrare in Inghilterra. Dopo 15 anni la guerra civile e l'abolizione della schiavitù poterono tornare negli Stati. Dopo 15 anni la guerra civile e l'abolizione della schiavitù poterono tornare negli USA con tre dei propri figli ed aprire una cooperativa che si occupava di aiutare gli ex schiavi e ad affrancarsi definitivamente.